Andiamo ancora avanti e passiamo la parola al consigliere Cristiano Saponi Buonasera a tutti, grazie che siete venuti qua questa sera, siete numerosi e abbiamo molto piacere Innanzitutto per me è un onore fare parte di questa società composta da queste grandi persone grandi persone in campo ma soprattutto fuori dal campo Sinceramente non sono una persona che parla molto, preferisco fare i fatti Quando è nata questa idea di fondare questa squadra, che è stata buttata da qualche idea all'inizio ero un po' perplesso, poi una, due volte, la terza volta ho detto ci sto anch'io, partecipo anch'io Sicuramente l'anno passato ha dato una grande spinta a questa idea, non solo a me ma anche ad altre persone Vogliamo far sì che questo gruppo che stiamo creando porti a dei grandi risultati sportivi ma soprattutto personali, crescite personali in campo ma fuori dal campo Il River United punta soprattutto su dei punti che secondo me sono fondamentali sul rispetto, sulla trasparenza e sulla serietà delle persone perché sono i veri principi che ti danno la forza di ottenere grandi risultati in campo Sicuramente verrà fuori qualcosa di importante e chi ne farà parte, sposerà questo progetto ne rimarrà veramente soddisfatto L'importante è che lo faccio col cuore e non deve essere forzato Mi auguro che questa stagione ci porti a grandi soddisfazioni e che ci faccia ripetere anche i prossimi anni a seguire questi risultati Grazie di tutto